Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte di misurazione sperimentale delle perdite dell'induttore. Infatti ho ultimato la realizzazione della scheda che consente di misurare queste perdite, quindi come ci eravamo detti nello scorso video sono andato a realizzarla, quindi qui vediamo la parte dell'ldo, lo stadio di driver del mosfet e qui la maglia lc, quindi questo è il condensatore e poi qui andrà collegato l'induttore e poi ci sono i due diodi che vanno ad isolare questa maglia dal resto del circuito. Ora ho selezionato questo condensatore che è un condensatore per alte frequenze e alte correnti in modo che si possa avere il più basso valore di perdite possibile su questo elemento. Mentre per quando riguarda l'induttore effettueremo i test su questo qui che in pratica è sempre lo stesso che è stato dimensionato nei due modelli precedenti, quindi questo è il nucleo del EE25, materiale pc 40 e ci sono 20 giri di avvolgimento. Ovviamente sono andato a creare un air gap opportuno e poi sono andato a con con lo scotch a mantenere fisso il nucleo in modo da ottenere un valore di induttanza di 50 µR. Quindi come appena detto abbiamo già le perdite teoriche di questo induttore calcolate con i due modelli precedenti e quello che si spera di ottenere con le misurazioni sperimentali sono gli stessi valori di perdita. Adesso quindi preparo il setup di misura e poi ci rivediamo direttamente per le misurazioni con l'oscilloscopio. Ecco qui il setup ultimato quindi ho connesso l'induttore al circuito, l'alimentazione a 12 volt e con il generatore di onda quadra sto generando una PWM di frequenza 1 kHz e con il duty all'1%. Adesso la prima misurazione che prenderemo sarà quella sullo shunt di corrente per sapere a qual è il valore di corrente di chiusura e quindi per ricavare a che valore di picco di corrente è arrivato l'induttore. Ecco qui la forma d'onda di tensione sullo shunt di corrente. Il primo picco non è da prendere in considerazione in quanto corrisponde alla scarica della capacità del MOS quando si accende quindi dipende dal fattore di commutazione. Il picco che a noi interessa è il secondo quindi vado con i cursori ad effettuare la misurazione e corrisponde circa a 1 volt virgola 64. Ora essendo che il valore di resistenza dello shunt è proprio pari a un ohm in pratica la corrente di chiusura del MOS è pari a 1 virgola 64 ampere e quindi di conseguenza anche la corrente di picco nell'induttore è pari a 1 virgola 64 ampere. Per la seconda misurazione quindi quella per vedere come varia la tensione ai capi del condensatore devo spostare la sonda e anche la massa quindi la massa va su questo nodo e la sonda su quest'altro che in pratica corrisponde proprio ai capi del condensatore. Ed ecco qui quello che vediamo una serie di oscillazioni ripetute causate appunto dal fenomeno di tipo impulsivo. Si vede qui chiaramente quando c'è l'accensione del MOSFET e poi ci sono le oscillazioni che appunto dipendono dal circuito LCR. Adesso quello che dobbiamo fare è effettuare la misurazione di tensione di due picchi successivi. Attivo quindi i cursori. ovviamente bisogna prendere la misurazione dei primi due picchi in quanto man mano che l'onda si smorza il valore della corrente nell'induttore diminuisce e quindi essendo che le perdite nel nucleo sono proporzionali alla corrente per averle più vicino possibile al modello su LTSpice bisogna prendere i primi picchi di oscillazione. E quindi si può leggere che il primo picco si trova ad una tensione di 52,4 volt mentre il secondo ha una tensione di 50,8 volt. E la differenza temporale fra i due picchi è pari a 9,68 millisecondi che corrisponde a una frequenza di oscillazione di circa 104 kHz che risulta essere coerente con i valori degli elementi nel circuito. Infatti per effettuare questa prova ho utilizzato un condensatore da 47 nano e calcolando la frequenza di risonanza di un induttore con 50 micro e un condensatore con 47 nano esce circa 100 kHz. Ed ecco qui i risultati della prova. Abbiamo che in queste condizioni di lavoro quindi alla corrente di 1,6 ampere e alla frequenza di 100 kHz questo induttore dovrebbe dissipare secondo calcoli teorici effettuati sul modello Spice una potenza di 359 mW che equivalgono a una resistenza nel circuito LCR di 0,28 ohm. Mentre con le misurazioni effettuate risulta che la resistenza presente nel circuito LCR è pari a 0,4 ohm che causa una dissipazione di potenza di 499 mW. Adesso la domanda che si ci pone è quale di questi valori è corretto? Se questo fosse uno strumento ideale o quantomeno uno strumento calibrato non ci sarebbe alcun dubbio nel rispondere che il valore corretto è senz'altro quello ottenuto dalle misurazioni sperimentali. Purtroppo invece quello di cui mi sono accorto è che cambiando il condensatore del circuito LCR cambia anche il valore di resistenza misurata e di conseguenza il valore delle perdite misurate. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà questo 499 mW non corrisponde solo alla perdita imputabile all'induttore ma bensì corrisponde alla perdita di tutto il circuito LCR. E quindi a causa di questa considerazione pratica avremo che le perdite misurate con questo strumento saranno sempre maggiori delle perdite reali dell'induttore. E quindi quali conclusioni si possono fare con questi dati che abbiamo raccolto. Un primo fattore importante da notare è che questa perdita risulta superiore a questa ed è normale che sia così perché questa è la perdita di tutto il circuito mentre questa è quella riferita solo all'induttore. Quindi in questa perdita è contenuta anche questa. Mentre se fosse successo il contrario ovvero che questa fosse stata superiore a questa era evidente che c'era un errore e che sicuramente era stato commesso nella realizzazione del modello su Spice. Secondo fattore importante da notare è che la differenza fra queste due potenze perse è davvero molto molto piccola. Infatti stiamo parlando di millivatt di differenza ed essendo che non possiamo spaccare il capello soprattutto perché non abbiamo neanche gli strumenti per farlo possiamo dire che questa differenza è accettabile. E quindi a valle di queste considerazioni si può affermare che il modello rispecchia la realtà fisica e che riesce a prevedere le perdite con un certo margine di errore. Molto bene per questo video quindi è tutto. Alla prossima!